Grazie per essere qui L'ultimo personaggio c'è Augusto Righi, che era un signore che praticamente ha creato tutto questo pezzo di università qua. Quindi sono tre serate belle da seguire. Perché Umberto Eco? Umberto Eco per alcune ragioni che adesso cerco di spiegarvi. La prima ragione è che qualche mese fa abbiamo creato un ciclo di visite guidate, chiamiamole così, di visite all'interno di alcuni palazzi storici, prima che iniziasse il lockdown e uno di questi palazzi è stato Palazzo Marescotti e lì facendo la visita Palazzo Marescotti, cioè nella sede appunto del Dipartimento delle Arti, cioè del corso di Laurea Adams, è chiaro che il nome di Umberto Eco era venuto fuori spesso. Per cui abbiamo deciso di creare anche dei piccoli video di pochi minuti dove un personaggio dell'Ateneo racconta uno spazio a lui collegato. E quindi abbiamo usato Umberto Eco proprio come voce narrante per Palazzo Marescotti. E adesso vi faccio vedere il video, visto che questa sera abbiamo in monitor, lo possiamo vedere, dura tre minuti e mezzo, quattro minuti. Il testo del video però non è recitato da Simone Francia, ma è recitato da Simone Tangolo, che è l'altro attore che avete visto qui in altre occasioni. Quindi Simone è stato così gentile da dire, vabbè, ascoltiamo Simone Tangolo dal momento che c'è già la sua voce. Ma solo perché lo conosco è come mio fratello, se no non avrei mai visto la sua voce. Ecco, poi finito il video, Costantino Marmo, che è un docente di semiotica, è uno studioso di cultura medievale, che è stato allievo di Eco, che è il presidente o direttore? Direttore del centro studio Umberto Eco e che è una delle persone che si sta occupando di una serie di azioni molto interessanti perché riguardano proprio la presenza di Eco nel nostro Ateneo, in particolare le iniziative legate alla figura di Eco e anche le modalità con cui la biblioteca Eco arriverà qui da noi, speriamo abbastanza presto, però per adesso le cose, insomma, fino adesso sono andate. E quindi è la persona più adatta per raccontarci Umberto Eco. Lui mi ha detto che farà una specie appunto di racconto anche sulla base della sua esperienza della figura di Eco, che chiaramente non si può esaurire in una serata, però insomma è già un modo per cominciare a parlarne. Dopodiché invece Simone a quel punto diventerà protagonista e ci proporrà una cosa che abbiamo fatto insieme un mese fa e che è molto divertente, cioè Eco tradusse un testo che sembrava intraducibile, che è Esercizi di stile di uno scrittore francese, Raymond Quenot, sembrava intraducibile perché Raymond Quenot scrisse questo testo concependolo come 99 micro racconti di mezza pagina o una pagina ciascuno, dove non succede niente, praticamente il racconto è elementare, cioè la storia di un episodio che avviene dentro un autobus a Parigi in una mattina qualsiasi, solo che Quenot l'aveva raccontato in 99 stili diversi, cioè usando linguaggi diversi, costruzioni retoriche diverse, tutte naturalmente rapportate al francese, per cui c'erano molti elementi che letteralmente sembravano impossibili da trasportare all'italiano. Invece Umberto Eco ha fatto un capolavoro di trasposizione, più che di traduzione, in italiano di quel libro, che vi consiglio di leggere perché è veramente divertente, come sentirete è divertente ascoltarne alcuni, quanti ne fai? 7, 8, 10, 10, un quarto d'ora, vedete l'orologio non basta, ne fa alcuni, non li può fare tutti in 99, Simone Francia. Dunque questa è la regia della serata, adesso faccio partire il video, io non torno più su, ringrazio naturalmente i due protagonisti, cioè Costantino che ha accettato di venire qui a parlare, ha anche preparato un testo visivo che seguirà il suo racconto e naturalmente Simone, che ormai è un abituè, e che questa sera però chiude la sua presenza a Zambè, 2021. Ecco qua il video. Sono già passati 50 anni, sembra ieri quando ci siamo incamminati su nuovi sentieri per arrivare all'arte, cinema, musica, teatro, danza, un viaggio bellissimo, niente di simile si era percorso prima. Dopo tanto vagabondare per la città, il cuore del Dams ha trovato casa in questo palazzo, un tempo chiamato il Cremlino di Bologna, nelle cui stanze si organizzava la fondazione Gramsci e nelle cui soffitte operava la redazione dell'unità, tanti pugni alzati come rose rosse. Nella sua storia potrei farne un romanzo, potrei raccontare le sue antiche vicende attraverso segni da decifrare e segreti da svelare. Tutto iniziò quando cessò l'amicizia tra due grandi famiglie bolognesi. Il potere guastò il loro rapporto ed esse finirono per demolirsi vicendevolmente i palazzi. I nostri, i marescotti, alla fine vinsero la causa e si presero dalle macerie degli altri, i Bentivoglio, il dovuto trofeo di guerra, il grande portone che ancora qui si vede. La vittoria e il trafugamento, tuttavia, non bastano loro per ricostruire interamente la facciata, ancora oggi rimasta incompiuta. Dentro, dietro a essa, si nascondono in realtà tesori su tesori. Ma state attenti, tutto all'interno è illusione, messa in scena di un prestigioso regista, Gian Giacomo Monti, che riuscì a dare sostanza ad un sogno effimero, ad eternare una stirpe presto scomparsa, a creare lo spazio dove lo spazio non c'era. Il grande scalone, grande non è. E il salone? Allegorie e simboli da ogni parte, tutti da decodificare, rimandi nascosti, a noi incomprensibili. I due fratelli Rolli intrecciarono i pennelli per creare l'elogio dell'antica dinastia, la vera sapienza e la gloria dei principi, che tengono un obelisco incoronato dalla fama, sirene e cartigli, corone e libri. Nelle volte delle altre sale, una sfida artistica riecheggia da secoli. Il Canuti grida «Barocco!». Il Franceschini risponde «Classicismo!». Queste mura parlano infine di una storia di famiglia. L'ultimo Marescotti accolse in casa, come fossero figli suoi, il nipote Filippo Aldrovandi e sua moglie Elena Pepoli. Lo vediamo ancora nel soffitto del loro appartamento privato. L'aquila che protegge il neonato Giove, mentre è allattato dalla dea Fortuna. Lo zio che concesse al nipote la gloria della casata, mentre negli stanzini più intimi e segreti, la giovane Elena si preparava come una regina sotto la chioma di Berenice. E oggi, questo palazzo, con la sua intricata storia, accoglie una nuova famiglia, fatta di studenti e professori. I giovani che qui assimilano dai vecchi e imparano, come nel mio romanzo, a guardare nel buio e nell'ombra, attraverso i riflessi degli specchi, attraverso gli inganni. Quanti se ne trovano oggi E quante rose essi ammirano sui soffitti, rose che non sfioriranno mai, finché essi sapranno conoscere e pronunciare il loro nome. Eccoci. Buonasera, allora ringrazio Marco per l'invito. Non è facile parlare di Umberto Eco in così poco tempo, quindi ho cercato di seguire un andamento più o meno cronologico, partendo da questo titolo che era uno dei dieci che avevo proposto a Marco e che era piaciuto e che ha una sua motivazione, non solo perché cercherò di mostrarvi che Umberto Eco è un gigante, ma su questo ci sarebbe anche poco da dimostrare, ma era un detto che piaceva molto a Umberto e quindi vi spiegherò le ragioni da dove nasce quest'idea. Seguirò due recenti pubblicazioni anche, che sono l'autobiografia intellettuale, che è uscita prima nel 2017 in inglese, in un volume miscellaneo sulla filosofia di Umberto Eco, che purtroppo faceva parte di una collana che si chiama dedicata a The Living Philosophers, cioè i filosofi viventi, e purtroppo è uscita dopo. Infatti lui non voleva terminare il lavoro per questo libro, che prevedeva non solo la sua autobiografia, ma anche repliche ai vari studiosi che erano stati invitati a dare un contributo. E purtroppo non è andata come sperava. L'altro libro, uscito anch'esso quest'anno, è Le avventure intellettuali di Umberto Eco, di Stefano Traini, che è un collega più giovane dell'Università di Teramo, che ha studiato qui a Bologna, ha fatto il dottorato, si è laureato con Eco, e quindi più o meno parla in maniera ovviamente molto più estesa della vicenda intellettuale di Eco. Rispetto all'autobiografia, io diciamo che mi sono concentrato anche sui rapporti tra Umberto Eco e le università con cui ha avuto a che fare, perché appunto, come vedrete, non ha avuto la vita facile. Allora, vediamo se funziona. Questo è il detto di Bernardo di Chartres, Sumus quasi nani gigantum numeris incidentes, cioè siamo quasi, siamo come dei nani che stanno seduti sulle spalle dei giganti. È un detto di Bernardo di Chartres della prima metà del XII secolo, che piaceva molto a Eco, tanto che ne ha fatto, ha scritto un'introduzione all'edizione italiana di un libro di Robert Merton, un sociologo americano, che aveva dedicato nel 65 un volume intero intitolato proprio Sulle spalle dei giganti, e aveva chiesto a Eco di fare questa introduzione in occasione del ventennale della pubblicazione. Ovviamente nella sua introduzione aggiunge cose, perché Merton non sapeva l'origine appunto medievale di questo detto, e ecco come medievista invece era ampiamente al corrente. Poi dedica anche una conferenza alla milanesiana del 2001, e interpreta questo detto come espressione della lotta dei figli contro i padri e della sempreverde polemica dei moderni contro gli antichi, ai quali si riconosce però il merito, un merito, quello appunto di permettere una visione più ampia e lungimirante. E qui Eco, proprio in conclusione, allude al suo essere nano. Forse nell'ombra già si aggirano giganti che ancora ignoriamo, pronti a sedere sulle spalle di noi nani. Qui vorrei invece mostrare in quanti modi Eco è stato ed è ancora attraverso i suoi scritti nei quali sopravvive e per noi, attraverso di noi, è stato un gigante che ci permette appunto di vedere molto più lontano di quanto non saremmo capaci di fare noi stessi. Un cenno alla formazione, si laurea in filosofia all'Università di Torino nel 54 con una tesi di laurea in filosofia appunto sull'estetica di Tommaso d'Aquino con Luigi Pareson, appunto uno studio di estetica e la pubblica nel 56 e nello stesso tempo comincia appunto nel 56 a lavorare in Rai a Milano dove fa degli importanti incontri. È molto interessante quello che racconta nell'autobiografia intellettuale perché al piano superiore rispetto agli studi della Rai Luciano Berio aveva fondato il laboratorio di fonologia musicale e lì passavano Boulès, Stockhausen, passavano tutti gli artisti, le avanguardie musicali dell'epoca e ovviamente Ecco ne ha approfittato perché si trovavano spesso a discutere e a cenare insieme, immagino, e attraverso Berio conosce anche il corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure perché glielo passa, proprio glielo fa conoscere, dice mai letto questo? Ecco, c'è una foto che purtroppo non sono riuscito a ritrovare in cui Ecco sfoglia svogliatamente, dice la diascalia, il corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure che poi apprezzerà molto più avanti. fa il servizio militare e durante il servizio militare racconta di aver scritto anche un articolo molto lungo in un volume sui momenti e i problemi di storia dell'estetica e che diventerà poi un libro prima in inglese e poi in italiano. Inizia a lavorare poi per Bonpiani nel 59 e dove appunto riesce a mettere insieme, a bilanciare una vita da studioso, aspirante studioso e un intenso lavoro editoriale perché appunto si dedica a pubblica e cura una storia delle invenzioni in molti volumi, insomma ha una intensissima attività e non solo ma conosce anche la futura moglie che lavorava appunto come grafica Renate Ramge tedesca come grafica allo stesso volume, agli stessi volumi. E ha il modo appunto di riflettere sulle avanguardie artistiche e sul parallelismi che trova con gli sviluppi dell'epistemologia contemporanea ed è quello che l'oggetto del suo primo lavoro Opera Aperta che esce nel 62 e c'è una parte però dedicata a Joyce che era una delle sue delle sue passioni per tante ragioni perché anche Joyce si interessava dell'estetica di Tommaso d'Aquino e aveva era entrata in crisi esattamente come lui e insomma una parte di questa opera aperta poi viene pubblicata a parte come appunto le poetiche di Joyce nel 66. Pubblica anche Diario Minimo che ho trovato per Mondadori questa volta in cui raccoglie una sua rubrica che si chiamava Gli scritti che aveva appunto pubblicato una sua rubrica sul Verri e su altre scritte occasionali scherzosi parodici in cui di pastiche letterarie anche in cui si divertiva molto e che andavano di pari passo con il suo interesse per il Medioevo per le avanguardie e per la pubblicistica in generale e la divulgazione e e poi pubblica anche un lavoro molto importante che però Apocalittici Integrati che è un è un lavoro che riguarda invece i vari aspetti della comunicazione di massa il chici i fumetti le canzoni di consumo la tv la radio tutti i temi che erano fuori dall'università dagli studi paludati dell'università e quindi questo è un lavoro che sicuramente ha aperto la strada a quello che sarà poi il Dams negli anni 70 come se ne ha nella prefazione alla riedizione del 77 di questo lavoro dopo che aveva che aveva ottenuto la libera docenza in estetica nel 63 ecco tiene all'università di Torino un ciclo un corso libero il corso libero così lo descrive nell'autobiografia immagino fosse non obbligatorio ovviamente e probabilmente neppure pagato di estetica e comunicazione di massa ha un grande successo che però l'Accademia Torinese non gradisce molto tanto che ECO non metterà più piede a Torino se non nel 2015 quando gli sarà conferita la laurea Noris Causa in scienza della comunicazione che è un momento diventato famoso per la famosa uscita per l'uscita sulle legioni di imbecilli che internet avrebbe scatenato facendo riuscire dai bar naturalmente semplifico perché da questa battuta molti hanno tratto l'idea che ECO fosse un apocalittico rispetto all'innovazione tecnologica quando invece era tutt'altro anzi era un tecno entusiasta ed era in tutte le sue anche quando l'ho conosciuto io ci siamo conosciuti proprio nel laboratorio di informatica dell'istituto di discipline della comunicazione nella stessa prefazione del 77 ECO ammette che il libro Apocalittici Integrati è messo insieme con materiali eterogenei privi di una progettualità complessiva eppure il titolo che era stato scelto da Valentino Bompiani con grandissimo fiuto editoriale è uno di quelli che durano nel tempo rimangono e ancora permeano le nostre discussioni sull'innovazione tecnologica e il suo impatto sulla nostra vita l'altro aspetto interessante è che il volume viene messo insieme per esigenze accademiche era stato bandito infatti un concorso per psicologia e pedagogia della comunicazione di massa e occorreva aver pubblicato almeno un libro come è noto evidentemente il concorso non andò particolarmente bene da questo appunto deduciamo che i primi rapporti con l'accademia da parte di ECO non sono andati non sembrano funzionare non solo ad aggravare la situazione come racconta sempre nell'autobiografia ci si mette anche l'allontanamento dal suo maestro Luigi Pareson che era molto cattolico e allontanamento che avviene per motivi legati al fatto che ECO prende le distanze dalla prospettiva religiosa che lo aveva accompagnato in realtà dall'adolescenza fino alla laurea e non a caso il titolo della tesi di laurea e della sua prima pubblicazione chiamava la quinate San Tommaso la nuova edizione del 70 con una importante prefazione toglie il titolo di santo giudicato poco pertinente per un studio filosofico la seconda metà degli anni 60 vede ECO impegnato sia alla Bonpiani sia come incaricato presso la facoltà di architettura a Firenze dove insegna teoria delle comunicazioni visive delle comunicazioni visive succedendo a Gillo Dorfles nel 66 e 67 e insegna anche a Milano nel 67 e 70 con un corso sui caratteri stilistici e tra parentesi compare semiotica è in questo contesto che si attua appunto una svolta semiotica nel 67 pubblica infatti gli appunti per una semiologia delle comunicazioni visive che erano le dispense del soccorso di Firenze che diventerà poi la prima sezione della struttura assente del 68 a Firenze tra l'altro ECO svolge anche un ruolo importante nelle trattative con gli studenti occupanti e grazie ho letto in un articolo grazie alla cosiddetta mozione ECO Ricci Lorenzo Ricci era il preside di facoltà penso contribuisce alla fine dell'occupazione della facoltà di architettura a Firenze il 20 marzo del 68 passiamo al capitolo che ci riguarda più da vicino ECO è il Dams è vero che ECO non ha fondato il Dams su questo è tornato recentemente anche in maniera abbastanza vivace e polemica come nel suo stile Renato Barilli nel catalogo della mostra No Dams se vi interessa è molto interessante è molto molto bella è molto piccola anche per cui ci mettete veramente mezz'ora per visitarla e però sicuramente per quello che aveva pubblicato e per la personalità che già era nei primi anni 70 ha dato un contributo decisivo allo sviluppo al decollo e al successo del Dams stesso quel che molti forse non sanno è che non ha cominciato insegnando semiotica ma comunicazioni di massa anzi la semiotica non era proprio prevista nel primo piano di studi che potete vedere appunto nella mostra No Dams dai verbali dei consigli di facoltà degli inizi del 71 precisamente il 22 gennaio del 71 risulta che un primo bando per l'insegnamento di comunicazione di massa è andato deserto e che quindi si deve ribandire si deve ribandire l'incarico e a questo punto che verosimilmente Benedetto Marzullo che secondo sempre quanto racconta Barilli faceva il bello e il cattivo tempo nell'allora neonato Damsa chiede a Eco di fare domanda probabilmente con l'impegno di chiamare a un certo punto in un futuro non troppo lontano una cattedra per lui e qui Eco facendo probabilmente tesoro dell'esperienza fiorentina fa una mossa abbastanza inconsueta l'istituzione del Damsa aveva infatti preoccupato gli studenti dell'Accademia di Belle Arti per un eccesso di concorrenza pensavano che formassero figure di artisti come quelli che si formano all'Accademia e infatti gli studenti di Belle Arti il primo febbraio del 71 primo giorno di lezioni del Damsa occupano strada maggiore 34 che era l'unica l'aula in cui si tenevano le lezioni è un destino un po' bizzarro come ci ha raccontato Roberto Grandi in un recente incontro a proposito del cinquantesimo del Damsa che era da allora da poco laureato in sociologia ecco prima di accettare l'incarico decide di incontrare gli studenti dell'Accademia di Belle Arti per sentire se le loro preoccupazioni avessero fondamento e chiede a Grandi di organizzare questo incontro nel caso che avessero un qualche fondamento avrebbe rifiutato l'incarico diceva in realtà incontrandoli si rende conto che questi non hanno capito nulla sono vittime del fraintendimento che da sempre ha colpito il Damsa pensavano appunto che si formassero artisti in realtà si volevano formare operatori culturali quelli che adesso chiamiamo operatori culturali allora non c'era neanche questa idea si pensava di formare persone che studiassero le arti studiassero i media studiassero la danza il cinema eccetera il teatro e quindi non degli artisti che poi anche artisti di talento si sono iscritti al Damsa è un altro discorso questo non guasta un po' di formazione anche per gli artisti non va mai non va mai male così a ECO viene affidato l'incarico di comunicazione di massa questo è sono due pagine illegibili da quella distanza del verbale del consiglio di facoltà del 5 marzo del 71 in cui si racconta appunto che ci sono state due domande una di ECO e una di un'altra collega di cui non faccio nome che ECO è molto più titolato e quindi viene dato viene dato a lui e inizia così le sue elezioni e questo è il frontespizio del primo registro dell'elezione del 70 71 l'approvazione del Damsa è avvenuta in tempi inimmaginabili oggi è avvenuta praticamente dal dicembre del 70 al gennaio del 71 e le elezioni sono cominciate nel marzo del 71 nell'anno accademico 70 71 per cui una cosa veramente inaudita ECO comincia le sue elezioni il 16 di marzo del 71 e il programma ve lo descrivo molto molto brevemente si concentra sulla definizione del concetto di cultura di massa esamina diverse teorie Ortega e Gasset della scuola di Francoforte analizza programmi radiofonici e televisivi e prevede anche una parte dedicata alla linguistica con la partecipazione di Roman Jacobson che vedete che vedete lì in basso nel riquadro in basso come invitato in effetti in quegli anni ECO stava imbastendo tutta una serie di relazioni a livello internazionale che porteranno alla fondazione dell'associazione internazionale di studi semiotici le tematiche semiotiche sono sviluppate anche in un seminario parallelo che si occupa anche di analizzare delle trasmissioni radiofoniche prosegue questo insegnamento anche per l'anno accademico successivo col programma 71-72 affidato nuovamente a ECO e comincia a prendere corpo un modello didattico che poi adotterà fino all'inizio degli anni 90 quando partirà scienza della comunicazione di cui parleremo tra un attimo il corso di comunicazione di massa prevedeva e questo è il frontespizio del registro devo ringraziare un caro amico e collega dottor Andrea Daltri che lavora all'archivio storico dell'Università di Bologna che mi ha aiutato a recuperare questi documenti ce ne sono tantissimi altri che non sono ancora digitalizzati però questi almeno ci sono e quindi perché lo schema comincia a prendere il modello comincia a prendere corpo perché una parte prevedeva appunto di essere di carattere più divulgativo rivolta agli studenti del primo anno e una parte di carattere più specializzato dedicata al problema semiotico del significato affiancata da seminari di carattere linguistico e di teoria di storia delle teorie del significato la storia della semiotica è sempre stata uno degli interessi di Eco nel 72 73 Eco rinuncia all'insegnamento di comunicazione di massa che passerà poi prima a Furio Colombo e poi a Roberto Grandi per assumere l'incarico di semiotica per quello e per gli anni successivi le lezioni che iniziano il 17 novembre del 72 si chiudono a 19 maggio del 73 prevedono oltre a lezioni frontali questo è il registro delle lezioni diversi seminari uno avanzato di semantica tenuto da Eco due introduttivi alla filosofia del linguaggio con Massimo Monfantini e sulle strutture narrative a cura di Patrizia Magli nel 71 Eco fonda la rivista studi studi semiotici versus WS e partecipa attivamente alle riunioni per la fondazione di una associazione internazionale di studi semiotici che tiene il suo primo congresso a Milano nel giugno del 74 la RAI dedica un servizio enorme di 40 minuti una trasmissione proprio il mondo dei segni che è curato da Enzo Siciliano e da Tullio De Mauro se riesco adesso vi faccio vedere solo l'inizio perché già solo la sigla merita meriterebbe un discorso ma non essendo uno che si occupa di di televisione vediamo se funziona eccolo qua la sigla la sigla di Ci troviamo questa sera per parlare di semiotica, una scienza che dal dopoguerra in avanti almeno ha avuto un escezionale sviluppo in tutto il mondo e che è diventata, oserei dire, da fino di moda. Abbiamo fra di noi Umberto Eco il quale ci intatterà da specialista, da competente su questa particolare scienza. Infatti Eco insegna semiotica all'Università di Bologna ed è tra l'altro segretario dell'Associazione Internazionale di Studi Semiotici. Rivolgiamogli subito una domanda preliminare. Che cosa vuol dire semiotica? Che è una scienza mi pare nello stesso tempo vecchia e modernissima. E nello stesso tempo ci spieghi se può anche perché si dice semiotica o semiologia. Senti, dire che la semiotica è di moda è come dire che è di moda all'oceano indiano. E' sempre stato lì, se poi qualcuno lo frequenta in una certa epoca è un altro problema. Voglio dire che almeno due mila anni dai greci che si pensa a una disciplina che studi la varietà dei segni usati dall'uomo. Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire... Di origine medica, no? Di origine greca etimologicamente e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel Seicento inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure che ha usato il termine semiologie e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris che hanno usato il semiotics. Tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. E quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi. Questo almeno per non creare confusioni nel pubblico anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili. Quindi secondo il linguaggio corrente sono termini... Stoppiamo qui, se no andiamo avanti tutta la sera e magari era meglio guardare la partita. E comunque una trasmissione così oggi sarebbe totalmente impensabile, soprattutto nell'estensione e nell'oggetto. Adesso se riesco... Torno a dove eravamo rimasti. Questi anni sono la vigilia di un radicale cambiamento nella vita di Eco perché dopo 17 anni di lavoro in Bonpiani sta per lasciare ed entrare nell'Accademia a pieno titolo. Nel 75 infatti vince il concorso a cattedra in semiotica che era stato bandito nel 74 e semiotica entra così ufficialmente tra le materie di insegnamento dell'Università Italiana e come esame fondamentale del primo anno del Dams perché intanto era cambiato il piano di studi. Negli anni immediatamente successivi fonda anche Eco con altri colleghi l'Istituto di Discipline della Comunicazione e dello Spettacolo che poi nei primi anni 80 diventerà Istituto di Discipline della Comunicazione con sede in Via Guerrazi 20. Sono di questi anni, al 70-80, alcune delle sue opere più importanti per lo sviluppo della semiotica in Italia e nel mondo dal Trattato di semiotica generale del 75 che rielabora in parte la struttura assente che resisteva ai tentativi di traduzione perché era una materia nuova e che doveva essere ripensata totalmente dopo 4-5 anni, alle voci delle enciclopedie Einaudi dedicate a codice, metafora, segno, significato e simbolo che poi confluiranno nell'84 in Semiotica e filosofia del linguaggio. Uno dei pochi volumi pubblicati per Einaudi. Di solito tutti gli altri, a parte Diario Minimo, sono pubblicati da Bonpiani. Dal 75 al pensionamento Eco ha insegnato all'Università di Bologna, nonostante avesse avuto proposte da tutto il mondo per insegnare, ma Bologna gli è piaciuta molto e si è veramente radicato e ha proseguito qui in seguito anche dopo la pensione con i seminari della Scuola Superiore di Studi Umanistici, di cui parlerò tra un attimo. All'insegnamento si dedica con grandissima passione e con esemplare dedizione, offrendo ai futuri laureandi uno strumento che si è rivelato indispensabile anche per me. Come si fa una tesi di laurea? Uscito appunto nel fatidico anno 77. Come ricordano diversi suoi allievi, in un numero della rivista Ocula, che è una rivista online, a cui potete tranquillamente accedere, che è completamente un numero dedicato interamente a Umberto Eco, le sue lezioni sono organizzate su tre giorni, sempre da novembre a maggio, vi ricordo, tre giorni in cui faceva due ore di lezioni al giorno. La prima, il giovedì, era dedicato a quelli che prendevano semiotica per la prima volta, studenti d'Amson, ma anche di filosofia e di letteratura e di lingue, ne ho conosciuti e incontrati diversi. Il venerdì era dedicato ai biennalisti, allora si poteva biennalizzare un corso concordando con il docente un programma e il sabato mattina il seminario per i laureandi e i laureati, dove ci siamo incontrati anche io e Marco, dove Eco condivide i progressi e i problemi attorno a cui ruota la propria ricerca e chiede anche ai laureandi e i laureati di condividere i propri risultati. Poi si va in pizzeria a continuare in forma spesso di gioco, vedi le diverse bustine di Minerva dedicate ai giochi che si facevano in pizzeria. In quegli stessi giorni, giovedì, venerdì e sabato, riceve regolarmente studenti e laureandi, con un sabaudo senso del dovere, proprio era sacro per lui il dedicarsi agli studenti, leggendo attentamente, chiosando tutti i dati doscritti che gli venivano sottoposti e correggendo anche le virgole e gli accenti, giustamente. Come si vede dalle foto di Enrico Scuro, anche qui c'è un bellissimo sito, i ragazzi del 1977, di questo fotografo bolognese, Eco partecipa alle assemblee con gli studenti e la celebre foto con il ditino alzato per chiedere la parola è del 3 marzo del 77, ma dopo l'11 marzo la situazione precipita per lui, come per tutta l'università e la città. È un anno difficile anche per me, che facevo allora, l'ultimo anno di liceo. Negli anni successivi, Eco comincia anche la sua carriera di romanziere. Non è che non avesse scritto anche prima fiction, però rimaneva molto molto laterale, erano più giochi, scherzi, piccoli racconti, anche scritti per il figlio e i figli. Qui si lancia veramente in un grande romanzo che viene definito da un suo lettore francese, prima dell'uscita, un romanzo balena, perché era esagerato, troppo esagerato, per riuscire ad avere successo, così a priori. Nel 79 esce Lector in fabula e nell'80 Il nome della rosa, che segna un esordio felice, che porta a compimento anche la propria passione per il Medioevo e la sua filosofia. Nel romanzo, Eco non mette alla prova le sue teorie, come qualcuno ha suggerito, ma mette piuttosto a frutto le letture e gli studi compiuti per l'elaborazione della tesi di laurea e degli altri studi sull'estetica medievale. Le prime cento pagine del romanzo sono infatti piene di citazioni, spesso anche in latino, di autori medievali, messe in bocca ai vari personaggi. Secondo le parole di Eco, costituiscono una sorta di iniziazione, un percorso di iniziazione superato il quale il lettore poi può finalmente lasciarsi guidare dal gioco di investigazione. C'è qualche nesso ovviamente con la teoria della cooperazione del lettore, però qui il lettore viene proprio costruito. Se non ce la fa superare quelle cento pagine, oppure le salta, rischia di perdersi il succo della faccenda. Anche il resto del romanzo è infarcito di citazioni dalle fonti più disparate, medievali e contemporanee, da Wittgenstein a Peirce. Ovviamente ne ho identificate circa un migliaio, ma sicuramente alcune mi saranno sfuggite. Compaiono anche descrizioni di portali gotici, come quello di Muassac, codici miniati, come appunto le miniature del Beato di Liebana, in cui Azzo e Guglielmo si imbattono nell'esplorare la biblioteca, e a cui Eco aveva dedicato anni prima una preziosa edizione commentata per Franco Maria Ricci. Il romanzo diventa un bestseller internazionale. Viene tradotto negli anni successivi in oltre 50 lingue. Dall'esperienza dell'essere tradotto e del tradurre, emergeranno poi numerose riflessioni e seminari sulla traduzione che occuperanno diversi anni a venire. Pubblicheranno nel 2003 dire quasi la stessa cosa, oltre a cimentarsi con quello che sentiremo dopo. Diremmo anche no. E anche Silvidi, Shara de Nerval, ha preso molto tempo della sua attività. Alla fine dell'81 avviene il mio incontro con Umberto Eco. E anche la mia storia ha una svolta. Avevo cominciato a seguirlo un po' svogliatamente, a dire la verità, considerandolo, molto superficialmente, un bravo showman, ma poco rigoroso e poco accademico per i gusti di un giovane snob, come ero io appassionato alla filosofia medievale. Partecipai al seminario sull'isagogio di Porfirio, che in quegli anni Eco aveva preso di mira come modello di analisi semantica, e concordai una tesina sul commento di Giovanni d'Anscoto, un francescano della fine del XIII secolo. in compagnia di due amici e compagni di corso presentiamo le nostre tesine nel periodo in cui la sede di Via Guerrazi era inagibile a causa di un crollo. La foto del buco che c'era nel corridoio di Via Guerrazi 20 la vedete sempre alla mostra No Dams. Sembra di fare pubblicità, ma è così. E teniamo l'esame in strada maggiore a scienze politiche che ospitava temporaneamente l'Istituto di Comunicazione. Eco apprezzò molto i nostri lavori, tanto che due anni dopo ci contattò per chiedere di aiutarlo per il suo intervento a un convegno a cui era stato invitato e il tema era un po' bizzarro, era l'uomo di fronte al mondo animale nell'alto medioevo. Lui si chiedeva ma cosa gli racconto? Poi ebbe un'idea geniale e disse ma ho incontrato tante volte un cane che latra all'interno dei trattati di logica, di grammatica medievali. Proviamo a vedere cosa salta fuori. E così abbiamo elaborato, raccolto le fonti, eccetera, eccetera e lui poi si è dedicato alla stesura che molto generosamente ha distribuito la responsabilità della stesura dell'articolo, l'ha distribuita tra noi tre e lui ha detto tanto io non lo devo fare carriera mentre voi avete bisogno. Quindi era una persona di una generosità pazzesca. Ho cambiato idea da allora anche vedendolo lavorare. Firmammo l'articolo dal titolo appunto Latra Toscanis a quattro mani e lo pubblicarono in italiano nell'85 e poi in inglese nell'89 in un volume che abbiamo curato insieme. E così è cominciata la mia collaborazione con lui e non è mai terminata. Cominciai così a essere più coinvolto nei seminari del sabato oltre che in qualche lezione di storia della semiotica medievale il giovedì e capì di quanto mi ero sbagliato nel valutare Umberto al primo approccio. Si trattava infatti di una persona geniale. Ne ho incontrate veramente poche in vita mia ma lui era, non ho nessuna remora a chiamarlo proprio genio. dotato di una memoria stupefacente sapeva memoria Sirano di Bergerac e tantissime altre cose brillante conversatore, raccontatore di aneddoti e di barzellette e soprattutto era di una grande grande simpatia e di compagnia. La mia fortuna è stata la sua passione mai soppita per il medioevo diciamolo e l'avvio di un dottorato di ricerca in semiotica unico in Italia aperto anche agli studi di storia della semiotica. In queste attività seminariali ECO faceva un lavoro che potremmo definire di talent scout metteva cioè alla prova della ricerca e della didattica i suoi collaboratori per prepararli al futuro da ricercatori o docenti che sarebbe eventualmente aperto per molti di loro. Infatti tantissimi sono diventati docenti in tutte le università italiane e questo si deve anche al suo lavoro con noi. Era molto severo anche non averlo in commissione a un concorso non era un vantaggio a me è capitato e vi assicuro che non risparmiava niente a nessuno perché i suoi allievi dovevano brillare di luce propria non perché erano i suoi allievi questa è una cosa che nessun altro ha fatto a mia conoscenza. Continua intanto ECO a scrivere saggi e romanzi a cadenza più o meno regolare e dell'88 è il pendolo di Foucault seguito dai limiti dell'interpretazione del 90 entrambi centrati sulla semiosi ermetica in aperta polemica con la deriva decostruzionista di ispirazione deridiana fondamentalmente prende in giro nel pendolo di Foucault tutte le teorie del complotto che non ci hanno abbandonato che allora stavano nascendo e che non ci hanno più abbandonato. Del 93 è un lavoro per la terza questo è un'eccezione rispetto alla sua abitudine che racconta i risultati di un paio di anni di seminari sul tema della lingua perfetta svolti sabato mattina e a seguito di un altro paio di pubblicazioni vado un po' veloce se no qui non finiamo più nello stesso 93 dopo che già nel 92 alcuni atenei erano partiti anche Bologna ha il suo avvio a Bologna ha il suo avvio il corso di laurea in scienze della comunicazione e qui Ecco prosegue nell'insegnamento di semiotica che però poi lascia per dedicarsi all'invenzione di un corso di composizione di test in italiano al computer che doveva insegnare qualcosa anche a studenti come Enrico Brizzi per esempio che era appena riduce dal successo di Jack Frusciante è uscito dal gruppo e in cui mi trovai anch'io coinvolto e che fu di grande ispirazione per quello che tenne io l'anno successivo Ecco era capace di coinvolgere 150 studenti in attività seminariale che comportava esercitazioni settimanali e li sfidava nella scrittura vincolata quella che appunto consiste nello scrivere magari eliminando una lettera di programmi scrivendo frasi che cominciano tutte con la stessa lettera ai tautogrammi e altri giochi del genere che erano cari appunto a Raymond Quenot e a Lulipo il laboratorio di linguistica potenziale ne nacque un volumetto povero Pinocchio che raccoglieva i migliori esercizi di tautogrammi degli studenti ricerca, insegnamento e divertimento coniugati insieme un modello assolutamente inarrivabile del 94 è L'isola del giorno prima il romanzo ambientato nel 600 che costituirà l'oggetto del prototipo di una enciclopedia multimediale la prima che darà poi vita a Encyclopedia storia multimediale della civiltà europea in cui mi volle coinvolgere che mi ha impegnato per diversi anni in veste di coordinatore di redazione molti dei giovani che parteciparono a quell'impresa tra i quali anche Marco Bazzocchi sono ora docenti dell'Alma Mater o di altre università e oggi si parla di spin off di incubatori di start up ecco ha precorso i tempi anche in questo ed era sul cut in edge come si dice sul confine più avanzato della ricerca nell'ambito delle tecnologie multimediali alcuni dei temi attorno ai quali ecco imbastisce il romanzo l'isola del giorno prima quello per esempio del valore delle nostre categorie di fronte a ciò che non conosciamo riemergono nello studio del 97 cante l'ornitorinco che a mio avviso è uno dei suoi migliori libri di ricerca in cui ecco apre la strada di nuovo agli studi di ambito cognitivo che oggi caratterizzano buona parte della filosofia del linguaggio del 98 è tra menzogna e ironia che si rallaccia ai temi del romanzo e che segna un ritorno al medioevo e cioè Baudolino del 2000 un grande omaggio alla sua città natale Alessandria anche lui è di Alessandria che è raccontato dalla voce assolutamente inattendibile di un suo figlio che è appunto Baudolino in cui ecco da libero sfogo alla sua passione per la fabulazione fantastica inestricabilmente intrecciata con la narrazione storica più rigorosa ricordo che gli fotocopiai tutta la la cronaca di Ottone di Frisinga delle gesta Friderici perché appunto voleva documentarsi voi sapete che racconta della morte di Federico Barbarossa e appunto dell'assedio di Alessandria e di tutte le vicende legate ai rapporti conflittuali tra Federico Barbarossa e i comuni del nord Italia e quindi era riusciva a coniugare queste due cose in maniera mirabile tra il 2000 e il 2001 il dipartimento di comunicazione si trasferisce in via Toffano da via Toffano cioè alla nuova sede di via Zogardino però ecco praticamente non ci mette piede perché se non per tenere corsi e seminari perché nel 2000 è stata istituita la scuola di superiori studi umanistici dell'Unibò con il compito di coordinare i dottorati di area umanistica e la direzione è affidata appunto a Umberto Eico che oltre alla magnifica sala rossa di cui qui vedete con l'affresco un dettaglio dell'affresco dell'incoronazione di Carlo V venuto appunto a Bologna in San Petronio il 24 di febbraio del 1530 trova in via Marsala uno studio particolare di forma ovale e come era solito affermare non senza un certo orgoglio si trattava del più antico studio ovale molto più antico di quello della Casa Bianca così tanto per non prendere termini di paragone nel 2004 esce La misteriosa fiamma della Regina Loana il più autobiografico dei suoi romanzi un romanzo in cui riemerge la passione per i fumetti tant'è che è una storia illustrata che è coltivata fino dall'infanzia e affronta in modo narrativo i problemi legati alla memoria e all'identità personale la dialettica tra storia menzogna e verità caratterizza ancora l'ultima produzione narrativa con il cimitero di Praga sulla nascita del protocollo dei savi anziani di Sion documento apocrifo che ha circolato dalla fine dell'Ottocento e che è stato usato poi dalla propaganda nazista in funzione antisemita e con numero zero sulla che vedete là in fondo sulla cosiddetta macchina del fango la produzione saggistica presenta invece una raccolta di saggi molto molto spesso rielaborati dall'albero al labirinto in cui riafferme il suo interesse e la sua passione per la storia della semiotica e l'impressionante raccolta di studi sul pensiero medievale oltre mille pagine che raccolgono gli studi che dalla tesi di laurea ha pubblicato in avanti sul medioevo e sulla filosofia medievale le antiche passioni non lo hanno mai abbandonato uno dei suoi ultimi interventi a un convegno è di nuovo sul pensiero medievale nel settembre del 2015 la società per lo studio del pensiero medievale oltre a conferirgli la membership ad honorem gli chiede di tenere il discorso introduttivo al convegno milanese su nutrire il corpo nutrire l'anima che era in concomitanza con l'expo sull'alimentazione sarà purtroppo pubblicato postumo con una revisione editoriale di Riccardo Fedriga e mia con il consenso naturalmente della famiglia in quell'occasione che Eco ha invitato a pranzo i tre ex giovani li aveva chiamati i tre moschettieri che lo avevano aiutato nella ricerca per il saggio sull'attratto del cane per il convegno dell'83 sul mondo animale è stato come sempre un piacere immenso passare un po' di tempo in conversazione con lui ma non potevo sapere che sarebbe stata anche l'ultima volta e che quello era una sorta di pranzo di commiato all'inizio dicevo che avrei mostrato perché Umberto Eco è un gigante non so se ci sono riuscito o se vi ho solo tediato con una lista molto parziale lista che avrebbe fatto andare in deliquio Umberto Eco di queste pubblicazioni ho tralasciato poi le riflessioni in ambito morale le pubblicazioni da esperto bibliofilo oltre che la sua attività di pubblicista per il Corriere della Sera il Manifesto la Repubblica l'Espresso grazie alla quale Umberto ha pubblicato almeno un'altra dozzina di volumi non sto scherzando sono migliaia di pagine decine di migliaia di pagine tuttavia la vastità la varietà dei temi toccati la profondità di un pensatore mai banale e sempre gioviale pronto allo scherzo e al gioco non lasciano dubbi i nani siamo noi grazie applausi applausi per caso è la stessa foto che chiudeva anche il video che ho visto prima è una foto dell'Università di Bologna quindi non ci sono problemi di diritti notazioni cioè il fatto sulla S in un'ora di traffico un tipo di circa 26 anni cappello floscio con una cordicella al posto del nastro collo troppo lungo come se glielo avessero tirato la gente scende il tizio in questione si arrabbia con un vicino gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno tono lamentoso con pretese di cattiveria non appena vede un posto libero vi si butta due ore più tardi lo incontra alla Cour du Rhum davanti alla Gassan Lazare e con un amico che gli dice dovresti far mettere un bottone in più al soprabito gli fa vedere dove alla sciancratura e perché retrogrado dovresti aggiungere un bottone al soprabito gli disse l'amico l'incontrai in mezzo alla Cour du Rhum dopo averlo lasciato mentre si precipitava avidamente su di un posto a sedere aveva appena finito di protestare per la spinta di un altro viaggiatore che secondo lui lo urtava ogni qual volta scendeva qualcuno questo scarnificato giovanotto era l'attore di un cappello ridicolo avveniva sulla piattaforma di un S sovraffollato di mezzogiorno mi alzo mi alzo un po' e leggere forse troppo là distingo un bel dì sul torpedone che non è la torre col pedone scorsi ma non preteriti un tipo non un carattere da macchina ovvero un giovinotto che non era un sette da poco cresciuto munito sì ma non scimunito di un cappello incoronato non incornato da un gallone non di birra e con un lunghissimo collo ma non postale costui si mette ad apostrofare ma non a virgolettare un passeggero a cui non vende almanacchi questa non si è capita e lo accusa anche se non è un dolore di pestargli i piedi non del verso ad ogni fermata che non è una ragazza caduta in una retata poi la smette di protestare ma le cambiali non c'entrano e si lancia non con la moto vedetta su di un posto libero che non è in alternativa al posto stopper non ha assolutamente attinenza con gli europei due ore dopo lo ritrovo non nel senso del club alla stazione San Lazare che non è un luogo per appestati dove un tale che non è un racconto inglese quello è tail gli dà il consiglio non da amministrazione di soprelevare senza bisogno di permessi di rizi un bottone ma non nel senso di un enorme contenitore di frassino per liquidi fermentati un giorno d'estate tra genti pestate come patate su un'auto non private vedo un ebete le gote devastate le nari dilatate i denti alla colgate e un cappello da abate con le corde intrecciate un di razze malnate con le mani sudate le ciglia corrugate gli dà delle mazzate sulle reni inarcate e il primo come un vate con frasi apostrofate gli grida ma badate e andate a prendervi a sassate poi si gira a spallate e ha già posate le natiche ingrassate due ore son passate e ci credate dete date lo trovo alla staziate sallazzate che ho indicate un'idiate di cose abbottonate e sbottonate buah medico dopo una breve seduta elioterapica temendo di essere messo in quarantena salì finalmente su un'autombulanza piena di casi clinici laggiù mi accadde di diagnosticare un dispettico ulceroso affetto da gigantismo ostinato con una curiosa elongazione tracheale e un nastro da cappello affetto da artrite deformante questo tale preso subitamente da crisi isterica accusa un maniaco depressivo di procurargli sospette fratture al metatarso poi dopo una colica abbigliare va a calmarsi le convulsioni su di un posto letto lo rivedo più tardi al lazzaretto a consultare un ciarlatano su di un foruncolo che gli rovinava i muscoli pettorali sincopi chiarissimo sincopi facciamo passare l'aereo? Ode. Questa la faccio da attore. Sull'autobussolo, sull'autobissolo, l'auto dell'essele, l'auto da fe, che va da sé, a sussultoni, a balzelloni, dal capolinea a linea a pie, un giorno calido, tepido e umido, un tipo sudicio, un tipo livido, collo da brivido, cappello imbilico di prezzo modico, ecco, ristà. Sul cappellicolo di quel ridicolo ci sta un astricolo, tutto intrecciatolo a quello impavido, col volto rorido, grida un omuncolo che col peduncolo gli preme il dito, lo grossolo del pie. Quello si intignola, volano sventole, chi insulta pencola, quindi si svincola, corre una seggiola, vi posta il podice, qui vi rannicchia, si se ne sta zitta. Caso incredibile. Dall'automobile, di stesso titolo, al perpendicolo del disolar, vedo il terricolo di cui, fantastico incolciliabolo, con tipo subdolo, che intrattenendolo su temi frivoli, gli mostra il bucolo d'impermeabile, forse un po' comico, dove un buttuncolo dovrebbe, indico, esser spostatolo un po' più in su. telegrafico, bus completo, stop. Tizio lungo, collo, cappello, treccia, apostrofa, sconosciuto, senza valido pretesto, stop. Problema concerne alloci, toccati, tacco, presubbilmente azione volontaria, stop. Tizio abbandona di verbio, per posto libero, stop. Ore due stazioni San Lazar, tizio ascolta consigli, moda, interlocutore, stop. Spostare bottone, stop. Segue stop, lettera stop. Qua non c'era questo, ma visto che è stato nominato il lipogramma, facciamo un lipogramma che mi trovo nella pagina. Lipogramma in U, che per quelli come me, non dovessero sapere, è che non c'è la U. Io non lo sapevo, l'ho capito leggendo, alla quinta, dopo A e io, ah, vedi, non ci sono. Era mezzogiorno e sopra la piattaforma posteriore dell'auto, del veicolo collettivo di linea S, vedo il giovinotto, collo non corto, cappello con cordicella intrecciata. Egli, apostrofa un nil vicino, dicendo che gli pesta i piedi ad ogni fermata e ad ogni discesa di passeggero. Poi si calma, pace e va a prendere il posto che si è appena liberato. Più dai, non molto tempo dopo, lo rivedo alla stazione San Lazzar che parla con un, con un altro, con altro amico della stessa pasta che gli consiglia di far risalire il bottone del soprabito. Oh, oh si poteva dire. Poi, parti del discorso. Articoli, il, la, gli, un, dei, del, al. Sostantivi, giorno, mezzogiorno, piattaforma, autobus, linea, parco, monso, uomo, collo, cappello, gallone, posto, nastro, vicino, piede, volte, passeggeri, discussione, luogo, ora, stazione San Lazzar, conversazione, amico, sciancratura, soprabito, bottone. Aggettivi, posteriore, completo, circondato, grande, libero, lungo, intrecciata. Verbi, scorgere, portare, interpellare, pretendere, fare, camminare, montare, scendere, abbandonare, gettarsi, rivederlo, dire, ridurre, fare, risalire. Pronomi, io, lui, suo, costui, quello, che chiunque, qualche. Averbi, poco, vicino, forte, apposto, altrove, rapidamente, più tardi, preposizione, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, congiunzioni e, o. Gustativo. Chiudio! S'ho partito troppo alto. E se è capito! A posto! Non mi interessa, assolutamente. Finiamo un attimo che finisce. Quasi finito anche da me, quindi. Sembra gol. Ok. Gustativo, dicevamo. Chiara cosa dicevamo? Che autobus saporoso! Curioso! Ciascun autobus ha il suo gusto particolare. Luogo comune, ma vero. Basta provare. Quello, un S, a voler essere franchi, sapeva di nocciolina tostata. Se capite, la piattaforma, innanzitutto, lasciava sulle papille una traccia di nocciolina, non solo tostata, ma testicciata e mantecata. E poco distante, un buon gustaglio, se ve ne fossero stati, avrebbe potuto leccare qualcosa di salmasto, come un collo d'uomo acre sulla trentina. venti centimetri sopra, un palato raffinato in cerca di emozioni, averve goduto della rara esperienza di una tenera treccia al cacao. E poi assaporamo il sale della disputa, l'amaro dell'irridazione, l'espregno della collera, il dolciastro della rancorosa viltà. Due ore dopo, il dessert, un bottone di sopra-abito, mandorlato. Pare che esi, o pare che sì, o pare che no, o pare che no. Questa, capito, io e Umberto Eco. Sulla tribuna o vestibulo, brusteriore di un bucintoro, bullo nato e abbuffato come un brunchero, cambusa di un burlicante di filibusta, ecco un bullo, brutterato dal gibus, a burdino un po' burrino, col bubone, burlinato da una bufa, bubola brutteriosa di burrano. Che brusco si imbrufola con un brue di burrocate, un bruda burlone, un brugalo che abusa e gli si imbruca a tamburo e gli imbulacra, brucefalo sulle bugne. Un boomerang! A tal bruagine gli bulan le budella e bufera nel bungalow come un burdog, quello brucaneve col brubolo, sbruciardelo buggerà. Poi, bulimico, si ingarbuglia e si brutta da burdozer, sonnambula un imbuto su un bruglio, le brume. Verso bruglio, vedo dal brus un conciliabulo alla brufumel e un funnambulo brucolico che gli buccina di un burrone, di un bruco, di un gabolo sulla buccia del brus del brus. Tutte le u che non c'erano prima. Interiezioni. Interiezioni. Psss. Ehi. Oh. Mmm. Eh. To. Ah. Ah. Ehi. No, sì. Beh. Ciumbia ur... Ma va che? Ah, chiudà! Te possino non dire? Vabbè. Bravo. Ma no. E in conclusione musicale. Perché se no la chitarra lì non ci stava. Non vedo niente, ci sono le ulteriori. Questo lo tolgo ma hanno detto che posso farlo. Bom 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 bom. Linea S di un autobus. 26enne col cappello all'ingiù Il collo lungo come le giraffe E poi d'un tratto lui perde le staffe Lamentoso E un poco cattivo Rimproverà al tizio vicino Di spingerlo ad ogni passaggio E siede lontano sino a sine Viaggio d'ore dopo Con l'amico fidato Qui a Zambea confabulato Al tuo soprabito manca un bottone Dice l'amico ora ti dico Dove proprio qui, qui Alla sciancratura Sì 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 Alla sciancratura E tutto qui anziché no Esercizi di stile Di che no Ho fatto l'epo perché è la serata sua Grazie Prego, prego L'abbiamo fatta in due L'abbiamo fatta in due Prendiamoci gli applausi tutti a due Grazie Prendiamoci gli applausi tutti a due